Ti capita di avere la sensazione che il tempo non basti mai e per questo ti stressi perché hai molte cose da fare e non sai quando farle? Magari hai già provato da trovare delle soluzioni e non hanno funzionato e allora se permetti ti passo qualche consiglio per trovare più tempo per fare più cose di migliore qualità. Sicuramente è un argomento che hai già affrontato tra te e te, hai già provato a scrivere elenchi di cose da fare e ad ottimizzare la tua giornata, non ci sei riuscito. Che ne diresti di provare un altro approccio per trovare più tempo e riuscire a fare di più? Naturalmente se tu riesci a seguire una scaletta e a fare tutto quello che la scaletta ti propone, continua con il tuo metodo, funziona per te. Altre persone invece si stressano leggendo tutte le cose che devono fare e che ancora non sono riuscite a portare a termine. Se tu appartieni a questo tipo di persone, ti consiglio di considerare un altro approccio che ti permette di trovare più tempo nella tua esistenza. Partiamo da questa considerazione. Il senso del tempo che non ti basta è una tua percezione. Quando la situazione è sotto il tuo controllo, ti entusiasma l'idea di avere delle cose da fare e quando non sai come affrontare gli impegni, ti stressi all'idea di avere delle cose da fare. Le cose sono le stesse, dipende dal modo in cui tu le affronti, è la tua percezione. Non è la quantità di cose da fare, non è la quantità di problemi da risolvere che determina se tu hai tempo abbastanza oppure se ti stressi per portare a termine queste cose. Considera uno sportivo che si allena, corre per diversi chilometri in pochi minuti. Se tu devi correre per la città per diversi chilometri e hai a disposizione tutta la giornata, la cosa ti potrebbe stressare perché non è sotto il tuo controllo. Invece, se sei come uno sportivo che si allena, che sa come affrontare la corsa, ti diverte l'idea di poter correre per qualche chilometro. Considera i giochi, ad esempio il gioco degli scacchi, avere un problema da risolvere in poco tempo. Ci sono partite di scacchi giocate sotto la dittatura dell'orologio per arrivare a fare le mosse entro un certo limite di tempo e per quei giocatori il bello è proprio avere poco tempo per divertirsi di più. Gli esempi possono essere fatti anche in altri campi della vita quotidiana. C'è chi lavora e si trova bene a lavorare sotto pressione. Il senso del tempo è una percezione e questa percezione dipende da come tu affronti le cose, da quanto tu sei capace di controllare le situazioni. Di conseguenza, per trovare più tempo, devi imparare a lavorare più concentrato. Per riuscirci, devi essere più abile. L'abilità produce padronanza e questo ti calma. Quando ti calmi, c'entra il bersaglio. Il tempo rallenta e quando fai qualcosa che ami, il tempo è pressoché fermo. Sicuramente è capitato anche a te di fare qualcosa che ti piace tantissimo e non ti sei accorto del tempo che passava. Hai guardato l'orologio a un certo punto e hai detto, caspita, guarda che ore sono. Altre volte invece, quando fai cose che ti annoiano, ti sembra che il tempo non passi mai. L'importante è fare quindi cose che ami. Per fare cose che ami, anche quando ti trovi ad affrontare degli argomenti che non ti piacciono, devi diventare più abile. Magari non ti piace risolvere problemi o non ti piace lavorare perché non sei capace di risolvere quei problemi. Non hai capito dov'è il piacere, ad esempio, di giocare una partita di scacchi o di correre per chilometri. In questi casi, devi diventare più abile. Quando sei più abile, riesci a essere più concentrato. Ti viene più naturale fare quello che devi fare. E a quel punto, trovi più tempo. Trovi più tempo perché ti senti calmo. L'argomento che affronti non ti spaventa. L'abilità produce padronanza. Ti porta a sentirti capace di centrare il bersaglio e lo centri per davvero. Nella stessa quantità di tempo, centri più bersagli. Questo ti dà soddisfazione. E quindi riesci a trovare più tempo, riesci a fare più cose e di migliore qualità perché sei diventato più abile. Di conseguenza, per fare di più non devi accelerare. Al contrario, devi rallentare. Contempla, medita, allenati, aggiornati, divertiti, agisci, procedi con leggerezza, sdrammatizza, ridi nel gioco della vita. Arriva ad amare ogni istante, ad usare ogni istante e ti sentirai appagato, completo, realizzato in quel tuo spazio e in quel tuo tempo. Trovare tempo è una questione di percezione. È una questione di abilità. È una questione di giocare nel gioco della vita. Se ti accorgi che la tua vita è una continua corsa, significa che stai vivendo lontano dal tuo equilibrio. Quindi non devi correre di più per cercare di farti andare bene quell'equilibrio. Devi rallentare. Devi fare un bilancio. Devi capire che cosa puoi fare e che cosa invece richiede richiede che ti alleni, che ti aggiorni, che ti informi. La meditazione ti aiuta ad avere una visione più completa. Non devi prendere le cose troppo sul serio nel gioco della vita. Sdrammatizza. In questo modo arrivi ad amare ogni istante, ad usare ogni istante, perché sai che in ogni momento tu hai un livello di abilità e quel livello di abilità è completo e quando tu ti applichi con gioia a qualcosa che tu sai fare, oppure quando tu ti alleni per riuscire a fare di più, ti rendi conto che quel tuo spazio e quel tuo tempo sono investiti bene. Porta i ritmi della tua vita a quella lentezza che conosci quando fai qualcosa che ami, anzi a quella assenza di tempo. Per trovare più tempo devi amare di più, amare di più quello che fai. Per amare di più quello che fai devi allenarti di più, devi capire di più quella cosa. In questo modo la corsa nella vita che ti stressa si trasforma in una lunga serie di istanti che ti forniscono gioia e soddisfazione. Questo ti permette di trovare più tempo per fare più cose di migliore qualità.